buongiorno a tutti buongiorno io sono maccanti anna sono una guida del sano stile di vita alcuni di voi so che mi conoscono altri magari non ancora sono naturopata dottoressa in scienze motori e quindi sono appassionata del movimento sano e di tutto quello che rappresenta la prevenzione e volevo abbiamo deciso quindi che dalla prossima settimana da lunedì mattina aprirò la giornata con un messaggio riferito proprio a un tema sulla prevenzione primaria quindi che può essere sulla salute emotiva sulla salute fisica sull'alimentazione tutti questi aspetti che possono donarvi uno spunto di riflessione oppure anche uno spunto pratico e così magari ognuno metterà la sua diciamo il suo pensiero quindi vi guiderò in questa settimana con grandissimo piacere e nel frattempo vi auguro uno splendido weekend un abbraccio a tutti grazie a tutti grazie a tutti